Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure vi do il benvenuto se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Se hai bisogno dei sottotitoli, attivali. Sono disponibili in basso a destra del video. Oggi ci concentriamo sulla lingua parlata di tutti i giorni. Quindi nella lezione di oggi vorrei prendere in esame insieme a voi, vorrei analizzare insieme a voi degli estratti di scene di film o scene di serie TV in cui vengono usate delle espressioni tipiche del parlato, tipiche della lingua più informale, della lingua quotidiana, che secondo me dovreste in qualche modo abituarvi a sentire e poi magari più avanti iniziare ad usare. Perché sono delle espressioni che sono proprio il cuore della lingua parlata di tutti i giorni, della conversazione informale. Sapete, quelle piccole parole, quelle domande, quelle espressioni proprio che fanno la lingua parlata. Nel video di oggi ne vedremo insieme solamente 10, il numero giusto per cominciare a crearsi un piccolo bagaglio linguistico di espressioni informali. Allora, come procederemo? Procederemo così. Come prima cosa vi farò vedere il contenuto video, che appunto contiene l'espressione che poi in seguito analizzeremo. e mentre guardate il contenuto video cercate di capire quale potrebbe essere l'espressione di cui parleremo poi. Poi vi dirò qual è l'espressione su cui ci concentreremo, l'analizzeremo insieme, vi spiegherò un po' il significato di quell'espressione e poi rivedremo insieme lo stesso contenuto video per appunto consolidare la spiegazione. Iniziamo! In questo breve video abbiamo ascoltato l'uso della domanda In questa domanda troviamo il verbo pronominale Entrarci, che significa avere attinenza o relazione con qualcosa, avere a che fare con qualcosa o qualcuno. Quindi se chiedo Sto chiedendo Sto chiedendo Qual è la relazione tra le cose dette in conversazione Oppure se dico Non c'entro niente Sto dicendo Che io non ho nulla a che fare Con una determinata cosa Anche tu sei una sospettata Veronica, eh? Come tutte le altre Dimentichi che sono arrivata da poco E che c'entra Potresti essere tornata per depistare Vediamo il secondo contenuto video Serve una mano? In questo estratto abbiamo ascoltato l'uso della domanda Serve una mano? Si tratta dell'abbreviazione della domanda Ti serve una mano? Viene infatti omesso il pronome oggetto indiretto In questa domanda Una mano significa Un aiuto Perciò è un modo colloquiale Per chiedere Hai bisogno di aiuto? Che ci fai qui? Ti ho visto entrare mentre passavo E ne ho approfittato per salutare la mia nuova amica Metti In questo secondo estratto Abbiamo ascoltato L'uso della domanda Che ci fai qui? In contesto Questa domanda significa Perché sei qui? E troviamo la particella C Che si riferisce al luogo E l'avverbio di luogo qui C'è una ripetizione Che ha lo scopo di enfatizzare la domanda C'è una ripetizione Che ha lo scopo di enfatizzare la domanda Che è tipica della conversazione informale Serve una mano? Che ci fai qui? Ti ho visto entrare mentre passavo E ne ho approfittato per salutare la mia nuova amica Metti Poi abbiamo questo contenuto video da guardare insieme Eccomi, eccomi Che c'è? Ho capito tutto Nell'estratto video che abbiamo appena visto Ci sono due espressioni che analizziamo insieme Eccomi E che c'è? Eccomi è un'espressione che nel contesto di questo video significa Sto arrivando In altri contesti può significare anche Sono arrivato Sono arrivata Sono qui Sono a disposizione Ad esempio quando si parla al telefono Questa espressione si può declinare con diversi pronomi In base al contesto e a ciò che vogliamo dire La domanda Che c'è? Si fa quando una persona viene chiamata Oppure quando si vuole chiedere a qualcuno di esplicitare ciò che sta pensando Oppure ciò che sta succedendo Nel contesto del video che abbiamo visto La donna viene chiamata dall'uomo In un'altra stanza E quindi chiedendo che c'è Lei sottintende chiedere Perché mi hai chiamato? Che cosa hai da dirmi? Eccomi, eccomi Che c'è? Ho capito tutto Proseguiamo nella nostra analisi I telefoni li mettete tutti qui dentro Dai papà, non esagerare Anzi, dai l'esempio tu Comincio, forza Forza, telefonini qui Dai Andiamo, forza Per incitare o invitare qualcuno a fare qualcosa Siamo abituati all'espressione dai In italiano c'è però un'altra parola che noi usiamo Con lo stesso significato Con la stessa intenzione comunicativa Ed è la parola forza Significa dai E serve ad incitare qualcuno a fare qualcosa A motivare qualcuno a fare qualcosa A spronare qualcuno a fare qualcosa Nel caso del video che abbiamo visto Il signore sprona i ragazzi A mettere i cellulari nello zaino I telefoni li mettete tutti qui dentro No dai papà, non esagerare Anzi, dai l'esempio tu Comincio, forza Forza, telefonini qui Dai Andiamo, forza Vediamo il contenuto video successivo Senti, ti aiuto a sparecchia Lascia stare Ci penso io Vai Sicura? Sì Nel video che abbiamo appena visto Troviamo due espressioni interessanti Lascia stare E ci penso io L'espressione lascia stare Significa non ti preoccupare Si usa per esortare qualcuno A non fare qualcosa Perché spesso non ce n'è bisogno Oppure perché non si vuole Che quella persona faccia Quella determinata cosa L'espressione ci penso io È una frase che si dice Quando qualcuno vuole prendersi La responsabilità di qualcosa Anche per le situazioni più semplici Come sparecchiare la tavola Che è il contesto del video Che abbiamo visto Oppure pagare un caffè al bar Per esempio Queste due frasi Lascia stare ci penso io Vengono spesso dette insieme Senti Ti aiuto a sparecchiare Lascia stare Ci penso io Vai Sicura? Sì Questa espressione si può adattare A tutte le persone Sia come frase affermativa Che come frase interrogativa In base al contesto Il penultimo estratto Che guardiamo insieme oggi È questo Il fatto è che io ho una faccia molto comune Sì eh? Sì sì Dicono che somiglia un sacco di gente Tipo? Tipo che ne so Dicono che somiglio tanto A un cantante famosissimo Però non mi ricordo il lume adesso Quando si vuole chiedere All'interlocutore Quindi alla persona Con cui si parla Di fornire Di dare degli esempi Di quanto ha appena detto Possiamo chiedere Ad esempio Per esempio Se però vogliamo essere Più informali Più colloquiali C'è una parola Che possiamo usare Che è quella Che avete sentito Nel video Che avete appena visto Tipo Quindi la domanda Tipo Significa Ad esempio Per esempio Ed è tipica Del formato Ed è tipica Del parlato Più informale Il fatto è che io Ho una faccia molto comune Sì eh? Sì sì Dicono che somiglio A un sacco di gente Tipo? Tipo Che ne so Dicono che somiglio tanto A un cantante famosissimo Però non mi ricordo il lume adesso Siamo arrivati Alla fine Della nostra analisi Ci manca solamente L'ultimo contenuto video Da guardare insieme Racconta Ho finito il dottorato Copenaghen Ho pubblicato Le prime cose E poi? Poi basta In questo ultimo estratto video Avete ascoltato La parola Basta La parola basta Ha vari usi E diversi significati Quello che avete ascoltato Nell'estratto Non è quello solito Di Ne ho abbastanza Che si dice Quando si è stanchi Di una situazione Si tratta Semplicemente Di un'espressione Che serve Per segnalare A chi ci ascolta Che la lista di cose Che ho fatto Si è conclusa Ad esempio Al supermercato Devo prendere Il latte Le uova Il pane L'olio E basta Racconta Ho finito il dottorato Copenaghen Ho pubblicato Le prime cose E poi? Poi basta Questo è tutto Per la lezione Di oggi Spero che vi sia piaciuta Spero soprattutto Che vi sia utile Se avete delle domande Dei dubbi O dei suggerimenti In generale La sezione Dei commenti Qui sotto È a vostra disposizione Metti mi piace Se questo video Ti è piaciuto E poi Se ti va Iscriviti al canale Grazie Per aver seguito Questa lezione E noi ci vediamo Nella prossima A presto Ciao Ciao